Assessore Lombardo, il tema del lavoro è un tema caldissimo, lo è in questo momento, ma lo è sempre ovviamente. Per il terzo anno consecutivo, l'avete voluto proprio voi, questa manifestazione nazionale di nobilità resta e torna in città tra qualche giorno. Ed è un momento importante di confronto, tra l'altro proprio sul mondo del lavoro post-Covid, durante ancora il Covid, vedremo. Sì, siamo molto contenti che anche quest'anno l'edizione di nobilità, il festival sulla cultura del lavoro, si tenga a Bologna. È un festival nazionale in cui si racconta e si parla di lavoro in maniera diversa, nel senso che sono le aziende, insieme ai lavoratori, insieme ai giornalisti, insieme alle istituzioni, che si interrogano su come sta andando il mondo del lavoro in questa fase delicata per tutti. Quindi parleremo di scuola, parleremo di organizzazioni aziendali che cambiano, tireremo un po' l'orecchia allo smart working che è stato fatto in questi mesi, dove dietro molta narrativa purtroppo c'è poca cultura dell'organizzazione del lavoro digitale, parleremo di scuola e parleremo di etica. Quindi tutti i temi che hanno molto a che fare con il lavoro. Si guardava a quest'autunno per capire i veri danni sul piano economico del Covid, mi sembra di capire che tutto va un po' spostato all'inizio del 2021. E' evidente che i primi segnali cominciano a intravedersi, il tema sarà quello delle disuguaglianze, dell'aumento delle disuguaglianze di genere, generazionali, anche perché quando si assume debito, poi qualcuno questo debito lo deve pagare, rischiano di essere giovani. Ma fino al 31-12, quando ci sarà, diciamo, finché c'è il blocco dei licenziamenti, noi non avremo ancora gli effetti deflagranti della crisi. Questo rischiamo di avercelo per l'anno prossimo. Ed è il motivo per il quale dobbiamo essere tutti pronti e attrezzati e ragionare come sistema. Quindi non imprese, mondo del lavoro e mondo delle istituzioni nelle barricate, ma tutti dalla stessa parte. E' chiaro che tutti ci auguriamo che non ci possano essere nuove ipotesi di lockdown, ma guardiamo con preoccupazione anche quello che sta succedendo, per esempio in Francia, in Inghilterra o in Spagna, e dobbiamo tenerci pronti. Bologna può essere da traino per il Paese, per l'Italia? Deve fare da traino. Dal nostro punto di vista uno dei settori cruciali per la ripartenza delle attività economiche è la tenuta del settore scolastico. Ed è per questo che molte risorse vengono impiegate in questo momento per adeguare le scuole alle normative anti-Covid. Però, d'altra parte, è chiaro che bisogna anche ripartire. Quindi la filiera dell'internazionalizzazione, dalla fiera ad aeroporto, ad altre attività, sono per noi fondamentali e sono anche importanti perché possa ripartire il ciclo produttivo e economico. Noi dobbiamo essere nella scia perché la ripresa ci sarà, ma non tutte saranno in grado di essere ai nastri di ripartenza. Soprattutto le piccole imprese, le micro imprese sono quelle che si trovano in più difficoltà e quindi sono quelle che meritano di essere più aiutate.